allora buonasera a tutti parto con questa veloce puntata perché in questo caso solo due esempi le faccio anche un po più veloci così possono magari essere meglio condivise due cose molto importanti la prima in questi giorni nell'ultima settimana si è parlato moltissimo delle chiusure domenicali pro e contro negozi aperti supermercati centri commerciali eccetera eccetera voi sapete che da molto tempo io consiglio e do spiegazioni su quelli che sono i gruppi di acquisto solidale quindi gruppi di cittadini normalissimi che si riuniscono qualche volta in forma anche giuridica ma la maggior parte delle volte in forma assolutamente semplice e libera per fare acquisti direttamente dal produttore direttamente dal coltivatore piuttosto che dall'allevatore piuttosto che dalla fabbrica di pasta di riso eccetera in questa maniera riescono a spuntare ottimi ottimi prezzi e qualità la qualità migliore per quel prezzo gruppi di acquisto solidale perché oltre al prezzo si guarda anche che il fornitore non sfrutti i lavoratori e rispetti l'ambiente il più possibile ecco di gruppi di acquisto solidale molti di voi già li conoscono se qualcuno vuole ho fatto dei video precedenti ma diciamo dopo è scontato che la maggior parte di voi conosca i gruppi d'acquisto solidale in cui mediamente ci si riunisce una volta al mese per fare un po il punto della situazione per valutare nuovi fornitori per valutare le recensioni degli altri gruppi d'acquisto perché siccome sono quasi 2000 in tutta italia è ovvio che per esempio nel nord non ci sono fornitori di arance bisogna appoggiarsi ad altri gruppi d'acquisto diciamo del centro sud che ti danno i consigli che ti dicono guarda secondo noi questo è un buon produttore questo è un buon prodotto qui trovi determinate soluzioni che ti vanno bene e poi gli acquisti sapete si fanno diciamo online nel senso che arriva una tabellina di excel una tabellina con la possibilità di ordinare ogni membro del gruppo d'acquisto magari si tiene in casa una parte della merce qualcuno invece ha delle stanze un piccolo magazzino più o meno organizzato e in quella sede ci può andare a ritirare la merce ora di cosa vi voglio parlare semplicemente di una evoluzione dei gruppi d'acquisto solidale che ribadisco sono fatti da normalissimi cittadini e quindi del supermercato del supermercato fatto da normalissimi cittadini in questo caso è un'iniziativa che ancora una volta diciamo è nata nei paesi bassi paesi bassi paesi nordici scandinavia germania paesi bassi sono spesso diciamo un passo avanti sulla condivisione così come sulla condivisione per esempio delle automobili ho fatto una puntata dedicata alla condivisione di automobili è assurdo vedere girare milioni di automobili pendolari con un passeggero solo quando potrebbero starci tre quattro persone che magari vanno nello stesso posto o comunque sicuramente fanno un pezzo fanno un pezzo di strada in comune ma questa è un'altra cosa eventualmente guardatevi il video precedenti video precedenti qui normali cittadini si sono riuniti per far nascere un supermercato un supermercato che viene gestito e anche servito dai cittadini nel senso che ogni chiamiamolo così socio di questa cooperativa ci mette tre ore al mese ci mette tre ore al mese che significa meno di un'ora alla settimana e quindi la prima esperienza è nata appunto in belgio 1700 cittadini 1700 cittadini hanno formato questa cooperativa ecologica economica sociale e aperto un supermercato appunto autogestito un supermercato autogestito ora in italia giusto per completare un attimo ci hanno messo circa 200 euro a socio però la quota di ingresso minima era 20 ai 25 euro e ribadisco meno di tre ore alla settimana ovviamente come tutto questo tipo di cooperative o un socio un voto quindi non importa quanta quota ci hai messo ma è comunque un voto e questi soci ovviamente ai loro familiari hanno diritto a fare la spesa in questo supermercato dove vi do subito la cifra più importante prodotti bio e prodotti locali risparmiano circa il 40 per cento rispetto ai normali supermercati lo ribadisco risparmiano su prodotti bio prodotti locali circa il 40 per cento rispetto ai normali supermercati questa naturalmente l'esperienza belga adesso va parametrata in italia e per fortuna c'è già qualcuno che lo sta facendo a bologna e anche in questo caso ribadisco che bologna molto spesso è la prima diciamo la punta di diamante per quanto riguarda le cooperazioni l'economia solidale tutta una serie di progetti dal basso l'emilia romagna in generale bologna è molto spesso pianiera su questo anche in questo caso c'è un gruppo di acquisto solidale già formato che sta sta avanzando ha già scritto lo statuto già fatto il regolamento eccetera eccetera e farà la stessa cosa farà un ristorante detenuto e gestito dai normali cittadini questa sarà la prima esperienza di questo di questo genere in italia ovviamente appena finisce la diretta vi metto il link di questo di questa iniziativa italiana ve la faccio vedere un attimo velocemente eccola qua loro si chiamano campi aperti si chiamano camilla vi faccio vedere la home page di questo progetto eccola qui vedete l'emporio di comunità a bologna e questo è appunto il progetto camilla hanno già hanno già predisposto regolamento statuto finalità vedete qui sono un po tutte le istruzioni con i vari rapport quindi come sempre una cosa bene organizzata e ultima cosa naturalmente il principio è quello solito e quindi si guarda la qualità la tua destinazione si trova grazie al gps che evidentemente non avevo staccato e guardano naturalmente i fornitori che abbiano il minore impatto ambientale possibile ovviamente ovviamente prodotti naturali ecologici con un prezzo trasparente e come sempre fanno i gruppi di acquisto solidale tutela dei lavoratori tutela dei diritti lavoratori e un rapporto con il fornitore che va al di là del mero rapporto cliente fornitore cioè un rapporto relazionale di fiducia con il quale si riesce a lavorare bene entrambi bene entrambi spero di essere ancora in diretta io vedo io vedo che sono in diretta spero che non abbiate perso qualche cosa quindi bellissima questa iniziativa di supermercato gestito e di proprietà dei cittadini normali l'evoluzione del gruppo d'acquisto solidale e seconda cosa di cui volevo parlarvi seconda e ultima faccio puntate più veloci in maniera che magari potete condividerle anche più tranquillamente ho parlato di tante ONG di tante associazioni di volontariato ve ne voglio presentare una nuova che viene gestita normalmente da lavoratori o ex lavoratori quindi pensionati del settore elettronico del settore di della produzione di elettricità e comunque della filiera dell'elettricità e infatti questa ONG si chiama elettrici senza frontiere vi faccio vedere velocemente la loro pagina quindi chi di voi ha competenze nel settore dell'elettricità e si sente in grado di dare un po del proprio tempo per progetti sociali questa è l'associazione appunto elettrici senza frontiere solo due cifre per farvi capire l'importanza le vedete scritte chiaramente qui al mondo c'è un miliardo e 300 persone che non ha accesso all'energia elettrica e sono il 18 per cento della popolazione mondiale mentre quasi il 40 per cento della popolazione mondiale quindi due miliardi e mezzo di persone per cucinare riscaldarsi usa energia molto sporca tipicamente brucia legna brucia carbonella dentro l'edificio stesso ma con stufette con cucine economiche assolutamente pessime quindi con un fumo interno l'abitazione enorme e infatti purtroppo vedete quest'ultimo dato tragico questo purtroppo causa la morte di 4 milioni di persone all'anno 4 milioni di persone all'anno noi qui siamo strapieni di bellissime comodità però al mondo purtroppo ci sono due miliardi e mezzo di persone che per riscaldarsi e cucinare inquinano pesantemente la loro abitazione inquinano pesantemente la loro abitazione ecco chi ha competenze di elettronica di elettricità può quindi unirsi a questa ong io vi faccio vedere solo l'ultimo progetto che hanno realizzato a palermo quindi in questo caso italiani che usano italiani questa è la diciamo è la filiale italiana di un'associazione internazionale questo è un progetto che hanno portato avanti a palermo ieri è stato inaugurato addirittura con un pranzo insieme a papa francesco la missione speranza e carità di biaggio conte appunto hanno donato un impianto fotovoltaico di ben 60 kilowatt quindi un impianto parecchio robusto diciamo parecchio robusto e questo serve appunto alla cucina serve a tutta una serie di utenze appunto di questa che è naturalmente un luogo per aiutare le persone meno meno fortunate e quindi complimenti e congratulazioni a questa associazione che si sta dando molto da fare in italia e poi le loro le loro diciamo così sorelle si danno da fare nel resto del mondo e quindi complimenti quindi ribadisco chi ha competenze di elettricità di elettronica se vuole aiutare questa associazione atti adesso qui mi da che ho perso un attimo segnale come ho finito questa breve diretta avete letto questa la ventunesima puntata faccio queste questi video quindi ne trovate altri eventi sulla mia sezione buoni esempi nel mio blog personale tracce trovate tutta una serie di cose già fatte già fatte quasi tutte italiane o che comunque che si possono replicare in italia ma quasi tutte italiane quindi tutte iniziative dal basso perché molte cose le può fare la politica ma la stragrande maggioranza delle cose le devono fare i cittadini nel senso che buone leggi non sono sufficienti buone leggi non sono sufficienti io faccio sempre l'esempio che le cicche per sigaretta le cicche di sigaretta per terra le cicche le cicche di sigaretta nelle ferrovie nei binari del treno quando ho a cinque metri di distanza il cestino questa non è possibile che io debba mettere 5.000 poliziotti a vigilare e a far sì che tutti quanti abbiano quel minimo di educazione da non sporcare il suolo pubblico e moltissime altre cose ribadisco sono cose fatte che funzionano perfettamente le trovate appunto nella mia sezione buoni esempi ringrazio chi mi ha seguito se volete trovate tante altre cose appunto in questa sezione e se volete potete condividere il video buona serata e buon inizio settimana a tutti ciao